Un ingente carico di mascherine chirurgiche e i filtranti facciali certificati FFP2 e FFP3 è giunto ieri all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il materiale sanitario richiesto con urgenza dalla Regione Sanitaria al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è stato imbarcato nello scalo di Milano-Malpense su un C-27J dell'aeronautica militare. All'arrivo nell'isola i colli sono stati scaricati dai militari del Regimento Logistico della Brigata Sassari che ne hanno assicurato il trasporto a terra fino al sito di stoccaggio della Protezione Civile a Macchiareddu. Da lì partiranno per la capillare distribuzione volta a soddisfare le esigenze non solo delle strutture sanitarie di quelle per anziani ma anche degli enti locali di tutta l'isola. Prosegue intanto il lavoro dell'equipe sanitaria militare nelle case di riposo del Sassarese insieme a un team sanitario della U della TS di Sassari e con il supporto dei Dimonius i medici e gli infermieri dell'esercito e della Marina hanno effettuato oggi un'attività di screening sugli anziani della Residenza Sanitaria Assistenziale Matilda di Via Carlo Felice a Sassari Dal capoluogo turritano la task force specialistica si è poi spostata a Itiri per il monitoraggio degli ospiti della comunità alloggio Nostra Signora di Coros Buone notizie dalla struttura di Rizzedo a Sassari dove sono arrivati dopo sei giorni i risultati dei 20 tamponi effettuati al personale e risultati fortunatamente tutti negativi La tempestività della comunicazione per chi effettua un tamponamento viene riservata ai soggetti positivi che ricevono risposta nelle 24-48 ore a Sassari a Sassari a Sassari a Sassari